La quinta edizione del trofeo Magna Grecia organizzata dalla società pugilistica Quero Chiloiro con il patrocinio del comune della provincia di Taranto ha visto fronteggiarsi la storica pugilistica Quero Chiloiro contro l'Emilia Romagna. La cornice della riunione di pugilato è stata il Palamazzola di Taranto. I circa 600 spettatori presenti hanno sostenuto l'esordio nei professionisti del pugile tarantino Giovanni Rossetti il 19enne già campione italiano elite abbattuto ai punti l'esperto campano Giuseppe Rauseo. Rossetti seguito dai maestri Vincenzo e Cataldo Quero e da Cosimo Inerte dopo i primi round di studio e l'emozione iniziale è riuscito ad emergere a distanza nella quinta e sesta ripresa sia sulla lunga distanza e anche accettando il corpo a corpo con l'avversario. Rossetti seguito dal procuratore Mario Loreni può guardare con fiducia al proseguo della sua carriera ancora agli albori. È un'emozione indescrivibile questo esordio da pro. Come ha detto lei un avversario duro con tanta esperienza e niente continuiamo a lavorare. Che cosa ti ha insegnato un match del genere? Eri un po' legato nei primissimi round poi ti sei sciolto, c'era il tuo angolo che ti invitava a tenerlo a distanza soprattutto l'avversario. Un angolo del maestro straordinario, abbiamo lavorato tanto in palestra. Di nuovo come ha detto lei ha un po' d'ansia le prime riprese e poi niente è andato come si sperava. Sapevamo che era un match impegnativo, sapevamo dell'esperienza, della grande esperienza di Rouseo. Rouseo non ci dimentichiamo ha 111 match, tanta esperienza e soprattutto con match combattuto con gente valida, con pugili di alto spessore tecnico che adesso sono campioni italiani, internazionali, europei. Avevamo studiato in palestra festeggiamenti, avevamo studiato in palestra l'avversario, era sicuramente teso perché Nino può fare molto 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 di più. Però sì, abbiamo pagato questo scotto dell'esordio.